Dal 1 settembre i padri che lavorano nel privato e intendono usufruire di un periodo di congedo parentale potranno contare su un nuovo assegno al Nucleo Familiare Più. Entrerà in vigore a partire dal 1 settembre. L'idea di questo nuovo assegno provinciale al Nucleo Familiare Plus è soprattutto di sostenere i genitori affinché possono proprio vivere anche la famiglia e possono prendersi tempi di cura e tempi con la propria famiglia. L'assegno al Nucleo Familiare prevede che i padri che operano nel settore privato possano richiedere un contributo per un periodo che va dai 2 ai 3 mesi di congedo parentale consecutivo nel primo anno e mezzo di vita dei figli. L'importo varia da un minimo di 400 ad un massimo di 800 euro al mese. L'obiettivo è quello di favorire l'assunzione di responsabilità da parte dei padri nei confronti dei figli e della famiglia ma soprattutto poi quello di favorire la crescita del rapporto tra padre e figlio e ovviamente attraverso questa misura si favorisce anche la conciliazione famiglia e lavoro. Via libera della giunta provinciale al modello per la gestione degli spazi in affitto presso il nascente parco tecnologico NOI di Bolzano Sud. I canoni vanno dagli 8 ai 10 euro mensili al metro quadrato a seconda dell'allestimento degli uffici. I lavori stanno procedendo molto bene, nel 2018 saranno conclusi i lavori, sarà realizzato e abbiamo un ampio interesse da parte anche di soggetti privati di entrare in questo parco tecnologico ma non saranno solo privati, ci saranno anche le università, istituti di ricerca e quant'altro che saranno poi inquilini in questa struttura e perciò abbiamo dovuto definire anche in dettaglio lo schema degli affitti. La giunta provinciale ha stipulato la convenzione con i gestori degli impianti a fune di Rio Pusteria Maranza posta al Verano e Vilpiano Meltina in tema di tariffe di compensazione in modo da permettere agli utenti delle funivie di utilizzarle con i tagliandi di viaggio validi per il sistema tariffario integrato come ad esempio l'Alto Adige Pass.